19 casi di contagio in Basilicata RSA ancora sotto i riflettori a tolve e anzi positivi operatori ospiti di tre strutture negativi a distanza di pochi giorni i quattro dipendenti dell'ASP del distretto della Val d'Agri. E il tampone per chi entra in Basilicata sarà effettuato solo previo consenso, la precisione arriva dalla regione mentre l'ASP individua le aree in cui effettuare i test. Grido d'allarme dei commercianti di tricarico che tornano a sollecitare sostegno concreto al settore messo a dura prova nella fase di lockdown. Il blocco di alcuni impianti per l'emergenza contagio ha creato problemi alla gestione dello smaltimento dei rifiuti, l'allarme di Lega Ambiente. Giorni decisivi per la Serie C in attesa dell'Assemblea di Lega Pro e del Consiglio federale del Potenza lancia comunque la campagna abbonamenti. Buon pomeriggio ai nostri telespettatori e ben ritrovati a questo appuntamento con l'informazione regionale. In apertura del nostro Tg l'emergenza coronavirus perché ci sono ancora nuovi contagi, se ne registrano oggi 10 a tolve, anzi sono risultati positivi. Operatori e ospiti di tre strutture sanitarie e assistenziali. Sei intanto le persone guarite ma facciamo il punto con Michelangelo Russo. Torna a crescere di colpo la curva epidemiologica in Basilicata, rilevati ben 10 casi nuovi sugli ultimi 422 tamponi processati. E sale anche il numero dei comuni lucani colpiti, se ne aggiungono ben tre a quelli già raggiunti da casi di positività. Tolve e anzi, con quattro casi per parte, accettura con un caso rilevato. Nuova positività anche a Matera. Nei due centri potentini i contagi sono stati riscontrati in case di riposo e strutture riabilitative. A Tolve in particolare, dove sono stati esaminati 70 test da giovedì scorso, tre di essi nella struttura Fratello Sole e uno nella casa di riposo Santa Teresa, sono risultati positivi. Ad accettura positiva una donna 74enne. Il sindaco ha disposto la quarantena per i familiari. Intanto, come già accaduto a Pomarico, sono stati ripetuti a distanza di pochi giorni i test sui quattro dipendenti del distretto sanitario ASP di Villa d'Agri. L'esito questa volta è risultato negativo. È stata effettuata la sanificazione dell'intero distretto e dei locali della Guardia Medica di Paterno. E si è praticamente conclusa l'attività di screening del personale del distretto. Ad oggi l'80% dei tamponi ha dato esito negativo. Si attendono in settimana i risultati degli ultimi test. Tutti negativi invece i test sui 16 ospiti e 7 dipendenti della casa di riposo di Laurenzana. Con questo aggiornamento risalgono a 177 i casi attuali. 6 le persone nel frattempo guarite. Oltre 15.000 i tamponi processati dall'inizio della pandemia. Sempre 53 i ricoverati nelle strutture ospedaliere lucane. 21 al San Carlo e 32 al Madonna delle Grazie. Ed è cominciata la fase 2 in Basilicata non senza problemi, specie per chi si reca qui in regione. Il tampone per chi entra solo previo consenso e la precisione che arriva dalla regione Basilicata mentre l'azienda sanitaria di Matera individua le aree in cui effettuare i test. Sentiamo Celestino Benedetto. L'effettuazione del tampone a tutti coloro che provenienti da altre regioni o dall'estero entrano in Basilicata fino al prossimo 17 maggio è di carattere esclusivamente volontario. La precisazione dopo l'ordinanza dei giorni scorsi è del capo di gabinetto del Presidente Bardi, Fabrizio Grauso. Secondo quanto disposto dall'articolo 32 della Costituzione, spiega Viale Verrastro, è riservato esclusivamente alle norme di legge prevedere eventuali accertamenti e trattamenti sanitari di carattere obbligatorio. L'autorità sanitaria competente dunque potrà disporre il trattamento solo previa accettazione dei soggetti. In caso di diniego del consenso l'interessato non potrà essere sottoposto al tampone. Intanto l'azienda sanitaria di Matera fa sapere che tutti coloro che rientrano nel territorio di Matera e provincia possono volontariamente sottoporsi al test e nel caso in cui esso dovesse risultare negativo la quarantena di 14 giorni obbligatoria per tutti gli altri potrebbe cessare. Anche se è auspicabile un comportamento improntato alla prudenza e comunque il competente ufficio igiene valuterà caso per caso. A seguito di ordinanza del sindaco di Matera gli autobus arriveranno tutti presso la stazione di Villa Longo dove potranno essere fatti i tamponi e l'elenco degli arrivati verrà fornito ai competenti uffici comunali e sanitari per le verifiche relative alla quarantena. Per l'area metapontina invece l'epicentro sarà il comune di Policoro. I tamponi richiesti verranno effettuati a domicilio mentre nel caso in cui le richieste dovessero registrare un numero considerevole gli interessati saranno convocati in un solo posto presso il terminal bus a Policoro. E c'è il bilancio rilasciato dalla Prefettura di Potenza relativo alle attività di controllo disposte a cominciare dall'11 marzo scorso e svolte nella provincia di Potenza. Complessivamente sono state controllate 79.355 persone e sono 3.450 quelle sanzionate per aver violato i decreti del governo attuati per limitare l'epidemia Covid-19. In totale sono stati controllati in oltre 60.906 esercizi commerciali e sanzionati 56 titolari. E c'è il grido d'allarme dei commercianti di Tricarico che tornano a sollecitare sostegno concreto al settore messo a dura prova in questa fase di lock-out. I titolari degli esercizi commerciali e delle aziende del comparto produttivo del territorio di Tricarico hanno consegnato le loro chiavi al sindaco della cittadina del Materano. Sentiamo Vito Sacco. Ancora una volta il gruppo promotore dell'Associazione Commercianti Tricaricesi e il Comitato Civico Crescita Ersina scrivono al presidente della regione Basilicata Vito Bardi per chiedere attenzione alla categoria e per sollecitare proposte per la salvaguardia della situazione socio-economica nei comuni della ex zona rossa di Tricarico Ersina. Questa volta però il Comitato Promotore dell'Associazione Commercianti Tricaricesi è andato oltre. Ieri a mezzogiorno alcuni rappresentanti si sono recati nel municipio per consegnare al sindaco Vincenzo Carbone le chiavi delle attività commerciali. Una iniziativa pacifica e simbolica dicono i componenti del Comitato Promotore dell'Associazione Commercianti Tricaricesi per sensibilizzare la cittadinanza e l'opinione pubblica su un problema che non può essere più rinviato. In sintesi quello che chiediamo è una liquidità immediata per poter ripartire e garantire l'inizio produttivo ma anche di servizio e assicurandoci non soltanto sostegno ma soprattutto collaborazione e aiuti reali e concreti nel minor tempo possibile. Questo è un atto simbolico che ha una grande valenza perché fotografa quella che è la difficoltà delle attività della nostra comunità. Da sindaco sicuramente faccio mia le vostre istanze e mi impegno a rappresentarle presso gli organi istituzionali di grado superiore dove già abbiamo presentato delle proposte che al momento, confermo, sono rimaste in gran parte in evase. Però io sono sempre un'ottimista di natura quindi confido nelle istituzioni politiche affinché riconoscono questo grave stato di disagio in cui stiamo versando tutti da questo periodo da quando c'è questa emergenza sanitaria che purtroppo si è trasformata in emergenza economica. Quindi ci faremo sempre più faremo sentire sempre più la nostra voce ai tavoli affinché venga concesso a queste attività un contributo a fondo perduto e che si vada a sommare a quello che è il contributo governativo. E nella giornata di ieri il prefetto di Potenza, annunziato Vardè, ha incontrato i vertici dell'ABI per fare il punto sulle procedure necessarie alla corrisponsione agli operatori economici dei sostegni previsti dal governo. L'intenzione è quella di accelerare al massimo le operazioni bancarie affinché si possa assicurare la disponibilità delle risorse a chi ne fa richiesta. In risposta alla sofferenza economica patita dagli operatori lucani in questa fase di emergenza la UIL di Basilicata chiede alla Regione di attivarsi per la promozione di un piano straordinario negoziato con Commissione Europea e Governo basato sulle somme non impegnate dei fondi SIE, i fondi FESR e FSE del Fondo di sviluppo di coesione 2014-2020. Per la UIL della Basilicata, così come commenta il segretario regionale Tortorelli, gli strumenti anticrisi messi in campo a livello europeo ed italiano non sono e non saranno sufficienti a consentire una ripresa economica in Basilicata in tempi anche soltanto medi. La linea alla regia per una breve pausa pubblicitaria. A dopo. La moda, lo stile e il buon gusto sono un modo per prenderci cura di noi stessi. Ora, per volerci davvero bene, dobbiamo rimanere a casa. Rimaniamo a casa. Redford Eccoci rientrati in studio. Ci occupiamo adesso di rifiuti perché l'emergenza coronavirus ha determinato il blocco di alcuni impianti. I problemi si registrano soprattutto per quanto attiene lo smaltimento dei rifiuti differenziati, le difficoltà della piattaforma di Tito Scalo. Nel Potentino ripropongono l'urgenza di far partire altri impianti di compostaggio. Nel servizio di Alessandro Panuccio i timori lanciati da Lega Ambiente. L'emergenza coronavirus ha determinato anche il blocco di molti impianti di riciclo dei rifiuti mettendo in difficoltà alcuni settori, in particolare plastica, legno e acciaio. I tempi di stoccaggio sono raddoppiati e si è verificato un aumento dei rifiuti conferiti a inceneritori e discariche. Non bastasse questo, dichiara Antonio Lanorte, presidente lucano di Lega Ambiente, la Basilicata è entrata da qualche giorno in difficoltà anche sul fronte del conferimento della frazione organica dei rifiuti solidi urbani. È bastato che la piattaforma di Tito Scalo, che riceve tra gli altri l'umido della città di Potenza, per poi trasferirlo in impianti di riciclo, generalmente al nord, chiudesse l'ingresso, per ragioni di non convenienza economica, ai camion provenienti dal capoluogo. Pertanto l'acta ha dovuto in emergenza trovare un nuovo sito provvisorio fuori regione, al momento Giffoni-Vallepiana, in provincia di Salerno, per ovviare alle difficoltà. Se questa situazione, come anche Acta ammette, dovesse perdurare, ci potrebbe essere un aggravio di costi per le casse comunali, che alla lunga potrebbe diventare insostenibile. E qui si ripropone l'assenza di impiantistica regionale, a supporto della raccolta differenziata spinta, in particolare per il trattamento della frazione organica. A metà 2020, in Basilicata, manca ancora il primo impianto di compostaggio della frazione umida, unica regione d'Italia a non averne. Valeria Tempone, direttrice di Lega Ambiente Basilicata, ricorda che la regione Basilicata, con un provvedimento di oltre dieci mesi fa, ha ammesso a finanziamento quattro impianti per il trattamento della frazione organica dei rifiuti solidi urbani. Si tratta di due impianti di compostaggio, Venosa e Lauria, e di due di digestione anaerobica, Colobraro e Potenza. Quello in fase più avanzata di realizzazione dovrebbe essere Venosa, i cui lavori furono consegnati nell'ottobre 2018. Ora si chiede alla regione di conoscere quale sia lo stato dell'arte dell'impianto e se si può ipotizzare, come previsto dall'assessore regionale Rosa, che entro luglio di quest'anno ci sia il termine dei lavori, auspicabile e strategico per affrontare, almeno parzialmente, in tempi brevi, le possibili emergenze di queste settimane. Ritenuti responsabili dei reati di danneggiamento seguito da incendio e lancio di cose pericolose, a Montescaglioso i carabinieri hanno denunciato alle autorità giudiziarie competenti sette ragazzi del posto dell'età compresa. Tra i 15 e i 20 anni, i militari sono intervenuti a seguito di una segnalazione di un incendio in località Colle della Madonna del Buon Cammino, che aveva interessato parte della staccionata in legno adiacente al sentiero pubblico comunale. Le immediate ricerche hanno permesso di scoprire che i ragazzi, insieme con altri due, che sono stati poi rintracciati presso le proprie abitazioni, si erano resi responsabili dell'incendio che ha interessato la staccionata, le cui fiamme sono state domate solo grazie alla tempestività dell'intervento dei militari della stazione di Montescaglioso e del personale della protezione civile allertati per tempo da alcuni cittadini del posto. Nella circostanza, i carabinieri hanno accertato anche che i ragazzi, dopo aver appiccato l'incendio, avevano intenzionalmente gettato un grosso masso lungo l'appendice di una scarpata che è precipitato sulla strada comunale sottostante, fortunatamente senza causare danni a persone. Contestata anche la violazione del divieto di assembramento previsto dalle misure di contenimento per l'emergenza epidemica Covid-19. La politica, l'emergenza coronavirus non ha congelato le diatribe interne al Partito Democratico di Basilicata. Mentre il Partito Nazionale spinge per un congresso prima delle amministrative, i consiglieri regionali Cifarelli e Pittella chiedono l'azzeramento delle segreterie provinciali, non senza ripercussioni interne, come ci spiega Mara Risola. Azzerare per restaurare vecchie logiche di potere e con un colpo di spugna cancellare quelle poche cariche che reggono in piedi il Partito Democratico di Basilicata dopo le ultime batosse elettorali, ovvero le due segreterie provinciali, quella di Potenza in mano a Mauro Locantore e quella di Matera affidata a Claudio Scarnato. Uno sgambetto, una pugnalata alle spalle sono i sentimenti che trapelano che arriverebbe in un momento di stasi totale della politica acuita dall'emergenza coronavirus. ma soprattutto di profonda debolezza della società civile. Artefici di tale richiesta i due consiglieri del PD, Marcello Pittella e Roberto Cifarelli, che avrebbero inviato ai vertici del Partito Nazionale e anche al commissario regionale Dario Stefano un documento politico con il quale l'ex assessore e l'ex presidente chiedono le dimissioni dei due segretari provinciali, Locantore Scarnato, ma non di quello cittadino di Matera, Cosimo Muscaridola, almeno per il momento. Un controsenso già viene evidenziato in alcuni ambienti DEM, considerato che se azzeramento delle cariche deve essere, a questo punto dovrebbe riguardare tutte le segreterie. La posizione di Cifarelli e Pittella sarebbe stata già letta come una vera e propria fuga in avanti in vista del prossimo congresso regionale che, a quanto sembra, Roma vorrebbe celebrare non oltre ottobre, possibilmente prima delle amministrative. In questo caso è facile capire che le trattative per le candidature sono il nocciolo della questione. La verità è che la segreteria regionale del partito, come evidente, è solo un avamposto per altre posizioni, come per esempio le candidature alle prossime politiche o addirittura alle prossime regionali. L'Inps invita tutti gli utenti a ignorare e-mail che propongono di cliccare su un link per ottenere il pagamento del bonus di 600 euro o qualsiasi forma di rimborso da parte dell'istituto che avvisa gli utenti che è in corso un tentativo di truffa tramite e-mail finalizzata a sottrarre fraudolentamente il numero della carta di credito con la falsa motivazione. Si ricorda che le informazioni sulle prestazioni Inps sono consultabili esclusivamente accettando direttamente dal portale inps.it e che l'Inps per motivi di sicurezza non invia in nessun caso mail contenenti questo genere di link cliccabili. Siamo allo sport giorni decisivi per la Serie C in attesa dell'Assemblea di Lega Pro e del Consiglio federale il Potenza lancia la campagna abbonamenti però lo fa al buio come ci spiega Luigi Santopietro In Serie C ci si interroga su tutto dalla possibilità ormai remota di riprendere il campionato alle difficoltà di applicare il protocollo sanitario dal piano B per decidere la quarta promozione oltre alle prime tre dei gironi a tutte le conseguenze in termini di rispetto dei contratti per i tesserati e poi il tema clou il futuro della categoria e la riformulazione dei tornei per una maggiore sostenibilità in casa Potenza la situazione è ovviamente in stand by a maggior ragione dopo la conferenza del trio Caiata Fontana Iovino che da un lato ha rassicurato la piazza sul prosievo del progetto dall'altro ha fatto capire che potrebbe esserci un importante ridimensionamento del budget con la richiesta di intervento di una task force istituzionale che coinvolga comune regione cittadinanza in una sorta di esperimento sociale per fare del Potenza una squadra di comunità progetto interessante ma non di facilissima attuazione e i primi scontri si sono avuti proprio dal consiglio regionale se da un lato la consigliera Dina Sileo ha già annunciato l'intenzione di presentare una mozione che impegni ufficialmente la regione a sostenere l'attività sportiva del Potenza dall'altro il consigliere Luca Braia ha fatto chiaramente intendere che la Basilicata ha altre priorità e che il Potenza Calcio può attendere situazione molto fluida e difficile da cristallizzare in breve tempo la società intanto ha dato il via a una campagna abbonamenti al buio per la prossima stagione proprio in ottica del sostegno al club che darà la possibilità una volta terminata l'emergenza sanitaria di vedere la partita allo stadio costi di 100 euro per la curva 150 per i distinti 200 per la tribuna laterale 250 in tribuna centrale 500 in tribuna VIP infine c'è grande attesa per i prossimi due appuntamenti che sanciranno il destino della serie C in primis l'assemblea di Lega del 7 maggio cui seguirà il consiglio federale dell'otto sul tavolo la questione delle promozioni la richiesta del blocco delle retrocessioni che verranno poi valiate dalla FIGC e infine un altro tema cruciale si attende ancora il decreto cura Italia 2 per capire se le società potranno usufruire della cassa integrazione per i calciatori con un ingaggio lordo anno entro i 50 mila euro in questa fase di isolamento monta la nostalgia per i propri beniamini del calcio e così a potenza un giovane Mario Pesarini con la quarantena ha deciso di tirare fuori parte dei propri gadget e cimeri dedicati al leone rosso-blu raccolti durante gli anni coniugando così la passione per il potenza e quella per il montaggio del video che noi vi andiamo a proporre che ci sono Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.